Ciao ragazzi, ciao a tutti, ecco la bella notizia. Allora, grazie a Davide che mi ha appena avvisato, il bug di Disney Plus è stato risolto prontamente e adesso ve lo dimostrerò. Andiamo su questo film a caso ed ecco qua che è comparso il solito iMac con 4K Ultra HD e se facciamo partire il contenuto, adesso vi faccio vedere, io vado su modalità immagine e vedete che c'è Dolby Vision chiaro e scuro e se andiamo e se ci muoviamo adesso sul, portate pazienza, ecco, se ci spostiamo invece direttamente su Ultra HD, sui film in Ultra HD 4K, scusate, EHDR, allora vediamo cosa succede, vediamo cosa succede, ragazzi è ritornato 4K Ultra HD, bene, bravi, sono stati velocissimi, dai ragazzi, allora, cosa dire, scrivetemi nei commenti, fate le prove a tutti i vostri televisori, Davide lui c'è la G9 ed è lui che mi ha avvisato, quindi già sulla G9 è stata sistemata, qui sulla 80G è stato sistemato, verificate anche voi. Dai, ciao ragazzi, ci vediamo, alla prossima, mi sembrava doveroso avvisarvi, andate e divertitevi e utilizzate l'applicazione del televisore. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.